Ciao amici di youtube, oggi sono in giro qui per le risaie di Novara e volevo provare il mio Mach 2 Pro, volevo fare alcune riprese per provare l'artic track, qualche ripresa volevo stare lì in fondo dove ci sono gli alberi, però prima vi faccio un giretto a tutti. Intanto il filmato lo sto facendo con la mia DJI Osmo Action, modalità 4K, 30FPS, 60FPS è un steady attivato, sto camminando, è un giornata un po' nuvolosa quindi non è il top, però ecco cos'è il nostro fiume torrente è un po' nuvolosa 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 ok ragazzi stiamo per testare l'actitrack, ho impostato la modalità actitrack, adesso faccio go, vediamo se gli ostacoli, come vedete ci sono degli alberi qui, vedete il drone come si porta piano piano, nonostante io l'avvicino agli alberi si sposta lo stesso vediamo qua su come si comporta, perfetto, il drone mi segue tranquillamente, adesso faccio una corsetta, adesso mi fermo, adesso volevo farlo passare da qui dove ci sono questi rami qua, lo avvicino di più agli alberi, vediamo cosa fa, come vedete mi va, adesso ritorno contro di lui ciao 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 car Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.